Finalmente arrivata la prima berlina elettrica della casa BMW. La BMW i4 M50 unisce la sportività dei modelli M con il piacere di guida dei veicoli elettrici. L'eleganza della Grand Coupé non frena l'esplosività di questo modello, che accelera da 0 a 100 in 3,9 secondi e raggiunge una velocità massima di 225 km orari. Due motori elettrici di quinta generazione, per un totale di 544 CV e 795 Nm di coppia. Il tipico doppio rene della Serie 4 viene chiuso per aumentare l'aerodinamicità del veicolo, che insieme al recupero d'energia permette di percorrere fino a 590 km nella versione 40X. La tecnologia di ultima generazione, garantendo la migliore interfaccia per l'utente. Display curvo orientato al guidatore ed a display con realtà aumentata sono solo alcuni aspetti della nuova tecnologia. Il piacere di guidare si completa con l'Iconic Sound, un'immersione di suoni realizzata da Hans Zimmermann. E' bella, 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 bella. Sottotitoli e revisione a cura di QTSS